Bella a tutti ragazzi con un nuovo video, oggi vi farò vedere un altro adblock per bloccare le pubblicità quindi questa applicazione si chiama NextDNS comunque ragazzi trovate il link per scaricarlo in descrizione andiamo ad aprire adesso questa applicazione è molto semplice se voi andate a cliccare su questi tre puntini andate a cliccare su Use Custom Configuration e andare a mettere questo ID cioè 724F5A e adesso andate a cliccare su OK adesso andiamo a mettere Enable questo VPN come potete vedere qui in alto a destra c'è il VPN ancora non l'ho provato perché l'ho scaricata proprio ieri in Italia l'applicazione quindi adesso andiamo a vedere se veramente non ci darà pubblicità quindi andiamo su YouTube se mi carica la pagina ovviamente vediamo se me la carica ok andiamo a vedere il primo video ok qua lì mi sembra a farvi vedere poi andiamo a vedere su questo ok andiamo a vedere su questo proviamo con un altro ovviamente sto andando su canali che hanno già la pubblicità andiamo a vedere su questo no 12.000 euro in meno di un mese 136.000 euro in 6 mesi eh ragazzi non lo posso dire moltissimo perché comunque avevo visto che questi sono solo alcuni dei risultati di me centinaia di studenti che ora stanno ottenendo comunque non sarà una delle migliori applicazioni perché guardate ancora non è scaricata da un sacco di persone soltanto 9 e quindi suppongo che ancora la dovranno aggiornare comunque la mia recensione 7 non ci rilarghiamo troppo e ragazzi come sempre vi ricordo di lasciare un bel like e di condividere questo canale e tutti i video che ho fatto con i vostri amici e noi ci vediamo con tanti altri video bella